Siamo giunti al terzo incontro per quanto riguarda questi libri sull'aldilà. Come diceva Francesco, nelle conferenze precedenti abbiamo visto due testi che sono antichissimi, millenari, che risalgono la tradizione egizia, il libro egiziano dei morti e il libro tibetano dei morti, quindi meglio conosciuto come Bardo, tuo dono. Stasera presentiamo il libro di Tommaso Palamedessi che è un testo molto più recente, si può dire contemporaneo, che come sapete Tommaso Palamedessi è il fondatore della nostra associazione, Associazione Archeosofia. Ora non è per trovare un alibi, però presentare questo libro non è semplice perché ha un tomo di oltre 350 pagine e le tematiche trattate all'interno del libro sono veramente tantissime e sarebbero tutte oggetto di approfondimento. Tra l'altro è un testo dai contenuti esoterici come lo stesso Massimo Itrovigne. Massimo Itrovigne è un saggista, un sociologo italiano che è il fondatore, è il presidente attuale dei Cesnur, che sarebbe il centro di studi sulle nuove religioni e ha scritto veramente tantissimi libri nel campo della sociologia religiosa e ha definito il libro ristano dei morti un grandissimo contributo all'esoterismo del Novecento italiano. Quindi capirete che il testo è abbastanza complesso. Quindi con Nino abbiamo pensato di mettere in evidenza quattro parti, quattro punti fondamentali per quanto riguarda il libro Cristiano dei Morti. Il primo è la costituzione energetica, almeno ci ricolleghiamo anche alle conferenze precedenti perché abbiamo visto che in Egitto e in Tibet c'era la conoscenza di un uomo energetico, cioè metafisico, di una costituzione invisibile. Per esempio Marco nella prima conferenza parlava dell'Egitto, del Ka, del Ba, quindi faceva riferimento a una costituzione energetica e anche in Tibet c'era la conoscenza di un uomo metafisico. Però queste conoscenze erano un po' più, diciamo, nel corso dei secoli, anche nel campo della metafisiologia, diciamo che ci siamo evoluti. Penso al secolo scorso con il movimento teosofico, con la Blavatsky, il labbifer, che hanno dato un contributo, diciamo, a quanto riguarda la costituzione occulta e oggigiorno grazie all'archeosofia. E quindi il primo tema è la costituzione occulta. Il secondo tema è questo viaggio dell'anima nei meandri dell'aldilà, che è quello che trattiamo stasera. Settimana scorsa abbiamo visto, cioè, il viaggio dell'anima in questo bardo todol, com'era per i tibetani. Stasera lo vediamo in una visione archeosofica. Il terzo punto è l'importanza della ritualistica, perché in tutti e tre libri troviamo una ritualistica, cioè un'assistenza al morente e al defunto, e anche l'importanza dei giorni esequiali. E infine, forse l'aspetto più importante, diciamo, di tutti e tre testi, è l'importanza della chiara luce. Perché abbiamo visto, anche Paolo ci parlava, che nel Tibet c'era questo, l'obiettivo, che era quello di andare incontro a questa chiara luce. E questa è anche una cosa curiosa, no? Perché quando, diciamo, si parla della morte, la morte è associata all'ignoto, all'oscurità. E trovare in dei testi invece la luce, che dà sempre il simbolo della divinità e della vita, evidentemente in questi testi c'è anche un messaggio di speranza e di salvezza. Quindi, fatto questa piccola, diciamo, introduzione, visto che parliamo di testi che trattano sull'aldilà, che cosa si intende per morte? Cioè, che cos'è la morte? La morte, per l'archeosofia, come ci scrive Palamidesi nel libro Cristiano dei Morti, ma anche per moltissime religioni, è il distacco dell'anima dal corpo fisico. Cioè, quando avviene il distacco dell'anima dal corpo fisico, avviene la morte. Quindi diventa doveroso anche capire che cos'è quest'anima, perché l'anima ha un po' un senso generale. Se noi vogliamo usare un termine più, diciamo, appropriato, più archeosofico, dobbiamo parlare di ego. Per l'archeosofia la parte immortale è ciò che viene definito ego. Questo ego, che è l'io, l'uomo e la donna veri, che è costituito da una triade di principi che sono lo spirito, l'anima emotiva e l'anima erosdinamica. Ora, in realtà, questo concetto dell'anima immortale, unettrina, non è che si ritrova solo nella dottrina archeosofica, ma si ritrova alla base di moltissime tradizioni, di moltissime religioni. Per esempio, San Paolo, che è l'apostolo delle genti, San Paolo di Tarso, e lo stesso origene, uno dei primi padri della Chiesa nascente, definivano lo spirito preuma, l'anima psiche e l'anima erosdinamica, soma o corpo, che non è il corpo fisico, ma è questo principio che regge le funzioni vegetative del corpo fisico. Lo stesso concetto lo troviamo con Mosè, nella Kabbala, dove l'anima era un'anima trina immortale, dove questi principi si chiamavano Nefesh, Neshama e Ruach. Lo stesso concetto, molto similare, diciamo, lo troviamo in India, dove c'erano le tre qualità della vita, che sono Satva, Ramas, Rayas e Tamas. Questo me lo dimentico sempre, perché con l'India non c'ho una grande affinità. Infatti ero pronto, ero pronto. Questo concetto, perché gli avevo già detto, me lo dimentico sempre. Quindi, questo concetto, diciamo, trinitario, in realtà, lo stesso Platone, che è un po' il filosofo occidentale che è preso come esempio da tutti, nel Timeo, nella Repubblica, in questi testi, parla di un'anima immortale, un'ettrina, parla di un'anima razionale, che è riferita allo spirito, un'anima animosa e un'anima concupiscibile, quindi che regge le funzioni vegetative. Quindi questo concetto trinitario, in realtà, è un po' alle basi di tutte le tradizioni, quindi probabilmente si capisce che l'uomo immortale è veramente costituito così, e questo sarebbe, diciamo, la parte immortale. Poi l'uomo è costituito, l'uomo e la donna sono costituite anche di una parte mortale che, diciamo, oltre al corpo fisico, è costituita da una serie di corpi energetici. Ora noi, sulla sostituzione occulta, facciamo una cosa molto sintetica, perché la prossima conferenza c'è proprio un approfondimento. E quindi dobbiamo parlare di una serie di corpi energetici che, come corpo fisico, sono mortali. E sono il corpo eterico, il corpo astrale e il corpo mentale. Allora, il corpo eterico è quel corpo che più, diciamo, assomiglia al corpo fisico, lo ricalca perfettamente, ed è quel veicolo che dona calore e vitalità al corpo fisico. Cioè, il corpo fisico, senza questo corpo, sarebbe morto. E quel corpo che permette di assimilare l'energia vitale, quella che gli hindu chiamano prana. Il secondo corpo è il corpo astrale, che tradizionalmente viene anche definito corpo emozionale. Quindi si capisce che è quel veicolo che ci permette di provare delle emozioni. E infine il veicolo del pensiero, che è il corpo mentale. Ora, questi corpi compenetrano il corpo fisico, cioè lo avvolgono come, diciamo, in un aura, in un alone energetico e l'insieme di questi corpi prende il nome di aura. E quest'aura ha una vista, ovviamente, caro e vigente, può apparire di svariati colori, di svariate tinture. In base a cosa? In base ai pensieri, ai sentimenti, alle passioni che un individuo, diciamo, prova. Infatti, la slide si vede, ad esempio, i colori chiari denotano sempre dei sentimenti elevati, alta spiritualità, mette colori più cupi, diciamo, sono più legati alle passioni terrene, con il simbolismo del colore in sintesi. Questi corpi, diciamo, che sono tenuti, come dire, uniti e collegati tra loro in vita, da ciò che la tradizione definisce filo d'argento. E qui entriamo un po' nel tema della morte, perché questo filo d'argento ha un'importanza, per quanto riguarda la morte, molto importante, perché di questo filo d'argento se ne parla anche nella Bibbia, se ne è chiamato la corda d'argento. E che cos'è questo filo d'argento? Questo filo d'argento è come un cordone ombelicale, però allo stato energetico, fluidico. E al momento della morte cosa avviene? Questo cordone si spezza, si rompe, e quindi questi corpi si separano dal corpo fisico e quindi avviene la morte. Questo concetto del cordone, di questo filo d'argento, è stato espresso in modo molto geniale nel mito delle parche, nel mito greco, perché i greci a tramandare in modo velato un insegnamento erano veramente molto bravi. E praticamente questo mito delle parche, chi erano queste tre parche? Erano tre divinità, erano tre sorelle ed erano a servizio del fato. E il fato chi era per i greci? Per i greci il fato era un dio anonimo e non aveva statue all'interno dell'Olimpo, quindi fa capire che era al di sopra dell'Olimpo, tanto è vero che il fato nell'antica Grecia era colui che decideva il destino e la vita sia degli dèi che degli uomini e delle donne. E questo decideva l'ora fatale, tra l'altro noi abbiamo importato anche un termine che è l'ora fatale, quindi cari, cioè la morte. E questo fato decideva l'ora fatale attraverso proprio le tre parche. E queste tre parche che caratteristiche avevano? Allora, la prima sulla vostra sinistra è quella più giovane e quindi vedete che è intenta a tessere il filo, quindi era colei che dava la vita, che decideva il momento della nascita, ed è closo. Al centro abbiamo la chesi, che è quella che stende il filo, quindi era quella che decideva la durata della vita, quindi filo lungo, vita lunga, filo corto, vita breve. E infine c'era la più temuta, la più cattiva, che è rappresentata, vedete, da una vecchia, perché la morte è sempre associata alla vecchiaia, ecco lei che aveva il filo, che tagliava praticamente il filo e quindi decretava, scusate, la morte. E quindi diciamo che i greci hanno sintetizzato in modo molto geniale un insegnamento. Quindi tornando a noi cosa succede? Al momento della morte questo cordone, questo filo d'argento, si spezza, questi corpi, l'eterico si separa dal corpo fisico e il corpo fisico non prova più calore, non ha più dinamismo, energia e anche gli altri corpi, il mentale, l'astrale, si separano dal corpo fisico e quindi il corpo fisico diventa cadaverico, cioè muore. E questi corpi a sua volta si separano e vengono riassorbiti dai rispettivi piani, perché l'uomo è un microcosmo in analogia al macrocosmo, quindi a questi corpi corrispondono dei piani di cui poi ci parlerà circa l'elanino. Ecco, quindi cosa rimane? Rimane questo ego, questa anima in senso generale, resta questo ego che è destinato, come avrebbero detto i tibetani, a fare questo viaggio nel bardo todone, cioè in questo stato, diciamo, come lo definivano loro, stato intermedio. Palamedessi per descrivere questo stato usa un termine nel libro che è molto appropriato e lo definisce stato o mondo crepuscolare, perché il crepuscolo, cioè un termine appropriato, perché il crepuscolo è quella parte quando il sole, appena al tramonto, praticamente non c'è più la visibilità del sole a mezzogiorno, quindi i contorni sono meno distinte, il momento delle ombre, diciamo, comincia a calare la notte, quindi ci fa già capire cos'è, com'è questo stato crepuscolare, questo mondo crepuscolare. E poi lo stato crepuscolare è un disturbo della coscienza, cioè un ristringimento delle facoltà della coscienza, quindi l'attenzione, la volontà, la memoria, vengono come assopite, vengono, quindi poi da degli stati di disorientamento, di allucinazione. Quindi con questo termine Palamedessi riassume, diciamo, in modo perfetto ciò che abbiamo visto, dicevano gli egiziani, ciò che dicevano i tibetani, che questo stato intermedio, cioè praticamente l'uomo, l'individuo, si trova in una condizione, diciamo, di allucinazione, di sonno, sogno e allucinazione. E anche qui abbiamo chiamato, diciamo, in soccorso il mito greco, evidentemente questi greci erano molto, sapevano molto lunga come tramandare degli insegnamenti, perché nel mito di Thanatos e Hypnos e Morfeo è espresso praticamente lo stesso concetto. Thanatos era il dio della morte, mentre Hypnos era il dio del sonno. E nel mito che cosa avevano in comune? Erano fratelli. Erano fratelli, quindi si capisce, non sono proprio uguali, che però hanno una somiglianza, delle analogie. E praticamente cosa succede? Succede che dall'incesto, quindi la madre era la notte, guarda caso, e dall'incesto con la madre, tra Thanatos e la madre, nasce Morfeo, il dio del sogno. Questo dio del sogno, questo Morfeo, aveva una caratteristica, dicevano i greci, era quella di entrare nella mente delle persone che dormivano e fargli assumere una forma, cioè il sogno. Tant'è vero che la radice Morfeo deriva proprio da prendere forma, cioè forma. E quindi diciamo che hanno espresso benissimo questo concetto del mondo crepuscolare o del bardo todol di questo stato intermedio. Quindi al momento della morte l'anima entra in questo stato crepuscolare e inizia questo viaggio di cui ci parla Nino. Allora, buonasera a tutti, grazie per essere qui e a casa, collegati. Quindi, ora che abbiamo visto, grazie a Giancarlo, come siamo fatti noi uomini e donne, non solo da un punto di vista fisico, ma anche da un punto di vista sottile, e quindi occulto ed energetico, proviamo a rispondere a delle domande. a delle domande che probabilmente un po' tutti ci poniamo da sempre. Cosa succede esattamente dopo la morte? Dobbiamo aspettarci un premio o un castigo? Possiamo fare qualcosa per le persone care che si accingono ad attraversare questo momento particolarmente doloroso? Quando si va nell'aldilà, abbiamo visto abbiamo una parte mortale e un'immortale. Com'è che si comportano queste parti? Cos'è che succede a queste due parti mortale e immortale? Quindi abbiamo visto che mentre siamo vivi abbiamo i corpi energetici, l'eterico, l'astrale e il mentale, e questi compenetrano e sopravanzano il corpo fisico. Mentre dormiamo i corpi si allontanano un po' dal corpo fisico e secondo questo filo argenteo rimangono comunque collegati al corpo fisico. Praticamente è come se questi corpi fossero collegati come fosse un imbuto di fumo che si allontana dal corpo fisico ma comunque rimane collegato. Al momento della morte invece Atropo taglia il filo argento ed effettivamente è il momento dell'ultima separazione, proprio della dissociazione tra corpo fisico e corpi sottili. Questo movimento, questa separazione, è confermata un po' da tutte le tradizioni. È opinione condivisa e comune, infatti, che dal morente esca poco per volta una sagoma umana, debolmente luminosa. Questa rimane a lungo vicino al corpo ed è vincolata da questo cordone che abbiamo visto. Accade ciò che ci diceva Giancarlo, per quello che raccontano quindi le parche, ossia che Atropo taglia il filo e questa dissoluzione avviene per l'ultima volta. Adesso cerchiamo di essere il più precisi possibile perché andremo a vedere cos'è che succede durante e dopo la morte ed è quello che succede alla maggior parte delle anime. Per cui si comincia con l'incontro della chiara luce. Nelle altre conferenze l'abbiamo visto, un po' tutte le tradizioni raccontano di questo incontro ed è un aspetto molto confortante, se vogliamo, perché al di là del credo religioso, dell'essere atei, dell'essere cristiani o di altre religioni, tutti abbiamo questa possibilità di questo incontro, di questo faccia a faccia, con questa misteriosa luce che è abbagliante, pacifica e bellissima. Pochissimi, solo i più grandi, però, riescono effettivamente a fissarsi in essa e quindi a continuare ad esistere in collegamento con questa luce. Per tutti gli altri, e abbiamo detto per la maggior parte delle anime, invece questo incontro, questa visione dura qualche istante e poi comincia tutto un percorso che ora vediamo. Dopo l'incontro con la chiara luce abbiamo la visione dello specchio. Anche nella cinematografia, se vogliamo, questo è un aspetto che alcune volte si vede. È un po' come una proiezione molto veloce di tutti gli aspetti, di tutti i momenti più salienti, più significativi che nella vita, a livello emotivo, ci hanno segnato. Si vedono come in una carrellata velocissima e praticamente c'è questa visione, si chiama dello specchio perché è un po' come lo specchio delle opere che abbiamo fatto, che abbiamo vissuto. A questo punto, dopo la visione dello specchio, abbiamo il sonno riparatore. La morte è uno dei momenti probabilmente più faticosi per il corpo umano e quindi è necessario, in qualche modo, un periodo di sonno. Riparatore, in un certo senso, vuol dire per restaurare le energie. È dura, all'incirca, può durare dai due ai tre ai quattro giorni. A questo punto comincia il vero viaggio nell'aldilà ed è un percorso che tradizionalmente dura 49 giorni. Allo scadere di 49 giorni, quindi al cinquantesimo giorno, si vedrà un po' cos'è che succede. A questo punto però avviene quello che si chiama, cioè tutto questo viaggio di 49 giorni è caratterizzato dal restringimento della coscienza. Se ci pensiamo è un po' come quello che succede in pratica quando nasciamo. Non siamo pienamente coscienti di quello che viviamo, della realtà esterna. Cioè prima di fare un movimento, prima di mettere in alto un comportamento volontario, passano mesi e anni. Quando ci troviamo nell'aldilà è più o meno la solita cosa, cioè non è che l'anima è abituata a vivere nell'aldilà. E quindi ci vuole un po' di tempo perché si abitui a questa condizione nuova. Un esempio che potremmo fare è un po' come andare in un paese dove si parla una lingua che non conosco, arrivo lì e se non mi sono preparato prima per comunicare farò una grande fatica. Al limite, se effettivamente la cultura è particolarmente diversa, posso trovarmi veramente in difficoltà perché non ho idea di come funzioni. E l'anima quando si trova nell'aldilà è un po' in questa circostanza abbastanza nuova. A questo punto quindi facciamo un breve riepilogo. Allora, il primo passaggio è l'incontro con la chiara luce. Alcuni, i più grandi, potremmo chiamarli gli asceti, i più grandi da un punto di vista di un lavoro spirituale che hanno compiuto in vita, riescono a fissarsi con la luce e quindi proseguono in questo senso. Per tutti gli altri invece abbiamo la visione dello specchio, il sonoriparatore ed è tutto questo periodo dei 49 giorni caratterizzato dal restringimento della coscienza. Un inciso che è importante, questo era tra un poco, quindi un inciso va fatto in relazione a quello che succede, nel senso che una volta che io mi trovo nell'aldilà, in questo periodo di 49 giorni, siccome la coscienza, un po' se detto, non è completamente sveglia, il modo in cui si vive è quello del restringimento della coscienza, ma per il potere creativo della mente tutto quello che penso si realizza. È una cosa abbastanza particolare, un'esperienza particolare. Questo non vuol dire che quando mi trovo nell'aldilà posso dare vita e creare qualcosa che non conosco già, però in un certo senso quando mi ritrovo di là è come se cercassi in qualche modo di ricreare un ambiente a me familiare e quindi posso crearmi qualcosa di illusorio, in qualche modo per trovarmi un po' più a mio agio. A questo punto, questo aspetto tra illusione e realtà è uno dei principali punti di differenza tra il libro tibetano dei morti e il libro cristiano dei morti, perché l'altra volta Paolo ci diceva che tutto ciò che l'anima incontra è prettamente illusorio. Nel libro cristiano dei morti invece vediamo che oltre a esserci degli incontri fantomatici che sono appunto illusori, in realtà vi sono anche dei aiutatori, cioè l'anima non è lasciata da sola. Ci sono degli angeli e delle anime che vengono in soccorso al defunto e essendo benefiche aiutano l'anima in questo percorso. Però è vero pure che se ci sono le entità benefiche ci sono anche quelle adirate e che in effetti fanno paura all'anima defunta. Se l'anima quindi non aderisce alla luce abbiamo detto che comincia questo viaggio di 49 giorni. Al cinquantesimo, al cinquantesimo giorno viene stabilita la destinazione definitiva e quindi dov'è che va a finire esattamente l'anima? Molti popoli in diverse epoche, cioè tradizioni che tra di loro molto probabilmente sono distanti per secoli e anche per disposizione geografica, riportano gli stessi simboli, le stesse immagini che sono queste. Vediamo quindi a sinistra l'uroboro della tradizione ermetico-alchimista che è un drago nell'atto di mangiarsi, di mordersi la coda. Al centro invece, secondo la tradizione tibetana, abbiamo le tre bestie che sono il gallo, il serpente e il maiale, stranamente anche questi nell'atto di mangiarsi a vicenda la coda. A destra invece abbiamo messo la decima carta dei tarocchi, che è la ruota della fortuna, anche questa che gira, poi in realtà è un po' più complessa, nel senso che c'è la spinge che è quella che conosce le risposte le domande chi sei, da dove vieni e dove vai, però ci porta un po' fuori tema. Però le abbiamo riportate tutte e tre perché tradizioni differenti utilizzano gli stessi simboli. Anche nella tradizione archeosofica, in realtà, e quindi nel libro cristiano dei morti, troviamo l'immagine che vediamo qui a sinistra, che riporta i tre vizi, che sono brama, odio e ignoranza. Questi tre, però, non sono particolarmente differenti, anzi, praticamente sono l'espressione in parole delle tre bestie che vediamo qui al centro, ma sono i soliti vizi che governano il piano umano. Intorno a questi tre abbiamo i sei regni. Li vediamo qui a cenace graficamente, ma non ne parleremo stasera perché ci sarà un altro, un ulteriore incontro che approfondisce questo ed è proprio l'argomento di quella serata. Quindi, fermiamoci sul fatto che qui abbiamo sei spicchi. Anche nel libro tibetano, quindi nel Tibet, in effetti, si vede un poco perché, per far vedere, insomma, le tre bestie abbiamo messo, ci abbiamo zoomato, però anche qui ci sono questi sei regni. Quindi, tradizioni differenti, stessi simboli e stesse idee, stessi concetti. Ed è abbastanza particolare come situazione. A questo punto, quindi, com'è che funziona? Nel senso che l'anima è proprio in uno di questi sei regni che andrà a finire quando, se detto, a cinquantesimo giorno. E, per esempio, San Giacomo la definisce ruota infocata della vita. Nella tradizione archeosofica, invece, questo prende il nome di circuito chiuso esistenziale. Il fatto che sia un circuito ci fa pensare a qualcosa di continuo, ripetitivo, che in un certo senso non si sa quando comincia, quando si parte, non si sa quando si arriva o quando finisce. Quindi qualcosa di, in qualche modo, anche ipnotico, cioè che si ripete sempre uguale a se stesso. E poi chiuso non è molto simpatico, però è un po' come se ci dicesse il fatto che sia chiuso che è quasi impossibile uscirne. A patto, invece, se si fa un certo tipo di lavoro ben preciso, in realtà si scopre che non è esattamente chiuso. Cioè, è chiuso di solito, se si fa un certo lavoro invece c'è la possibilità di andare fuori. E qui, in effetti, si vede che al di là di questo circuito esiste anche il regno di Dio, che non è totalmente irraggiungibile per l'essere umano. In questo circuito vige quella che è la legge del dare e dell'avere. In Oriente si chiama karma. Dante Alighieri, il nostro carissimo Dante, lo chiamava contrapasso. Si può chiamare anche legge di giustizia e di conseguenza. Ma anche nell'immaginario collettivo, nei modi di dire, si usa dire ciò che fai ti torna indietro, oppure chi la fa l'aspetti. Anche a livello popolare, in un certo senso, queste conoscenze arrivano. E questa legge, quindi, del dare e dell'avere è strettamente legato alla reincarnazione. Quindi l'anima ha da svolgere un lavoro ed è un, in qualche modo, è un preciso percorso di evoluzione spirituale. Se volessimo citare, per esempio, i Vangeli, possiamo fare riferimento a Matteo, dove leggiamo che Gesù disse a Pietro, rimetti la spada nel fodero, perché tutti quelli che mettono mano alla spada, periranno di spada. Oppure, sempre Matteo dice, in verità ti dico, non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo quattrino, ed è il Cristo che parla con gli apostoli. Quindi, sono tutti esempi che riportano, in un certo senso, questa idea, questa dottrina della reincarnazione. Per spiegare un po' come funziona questa, facciamo un breve inciso. Possiamo fare due esempi, possiamo richiamare alla nostra immaginazione due oggetti, che sono la collana di perle, che tutti ci immaginiamo, nel senso che abbiamo il filo che passa attraverso tutte le perle, che è la parte immortale, come se fosse la parte immortale, che dura lungo tutte le varie esistenze, e poi abbiamo le perle, le singole perle, che invece sono l'aspetto della personalità che si esprime in ogni vita. Un altro esempio potrebbe essere quello del diamante. Il diamante è unico, quindi è come se l'anima fosse una, la parte immortale era solita, ma ha tante facce, che sono le varie personalità che si esprimono nei vari momenti storici. E quindi, a questo punto, Giancarlo, come mai si dice, si parla di 49 giorni e soprattutto cos'è che succede al cinquantesimo, se già detto? Scusate, non sono particolarmente emozionato, comunque. Non ve ne eravate accorti, eh, dite la verità. Bene, allora, è curioso appunto il fatto di vedere che in tutti e tre testi, libro egiziano, libro tibetano, libro cristiano dei morti, questo stato intermedio duri 49 giorni. E questi 49 giorni probabilmente sono molto importanti e da cosa si capisce? Che tutti e tre i testi hanno dedicato una ritualistica che dura appunto 49 giorni. Quindi probabilmente in questi 49 giorni è importante proprio il destino dell'anima, perché è vero che ognuno ha un proprio karma che si è, diciamo, creato nella vita terrena, perché questo è il mondo dell'azione, è qui che possiamo dare inizio a un qualcosa, quindi uno si crea un karma positivo o negativo al momento della morte, poi sarà, diciamo, assegnato in base a questa legge di causa e effetto a uno di questi piani di esistenza. Un luogo di premio, il paradiso, un luogo di espiazione che può essere il purgatorio o ancora peggio l'inferno. Però è anche vero che c'è una misericordia, divina, e quindi tutte queste tradizioni, l'Egitto, il Tibet e anche il Libro di Stiamo e Morti, hanno cercato di dare come un contributo, un'assistenza, un sostegno all'anima del morente o al defunto. E questa assistenza in realtà c'è sempre stata, anche da parte della Chiesa, perché, per esempio, nel rituale romano, praticamente, che è un testo, un insieme di festi liturgici che risale al 1614, dove ci sono le disposizioni di come si celebra un rito, che può essere il battesimo, il matrimonio e il rito delle esequie. Queste esequie che, appunto, sono il rito funebre. Oggigiorno, purtroppo, dovrei dire, purtroppo, la Chiesa, solitamente, la messa esequiale è solo il giorno del funerale, quindi o a casa del defunto, o alla Chiesa, o al cimitero. Poi ci sono le messe di suffragio, però diciamo che la Chiesa, oggigiorno, sostanzialmente, il discorso lo chiude qua. Anticamente, queste cerimone esequiali, invece, duravano molto più il tempo, cioè duravano per quasi tutto lo stato intermedio, duravano circa 40 giorni. E a darci una conferma sono moltissimi autori. Noi abbiamo preso a testimonianza Sant'Ambrogio, che è stato un santo, che è ricordato dalla Chiesa come un grandissimo uomo di scienza, che è vissuto intorno al 330 d.C. e ci parla di queste cerimone esequiali che durano 40 giorni in occasione della morte di un grande personaggio dell'imperatore Flavio Teodosio Orazio, che era l'imperatore, che era contemporaneo di Sant'Ambrogio, grandissimo amico di Sant'Ambrogio, era l'imperatore romano che nel 380 d.C. con l'editto di Tessalonica fece della religione cristiana la religione unica e obbligatoria dell'impero romano, del regno romano. Quindi è ricordato sia dalla Chiesa cristiana, non solo, anche dalla Chiesa venerata, anche dalla Chiesa orientale come santo, non per le virtù, ma proprio perché ha fatto questo atto, ha reso la religione cristiana come una religione obbligatoria e unica. E Sant'Ambrogio, in un testo, documento, che è proprio un'occasione dei riti funebri dell'imperatore, ci parla così. E non c'è il testo. Deanna avanti a qua. Ah, ancora. Ok. Cioè, fatte esempio qui, io non c'avevo questa slide. Allora, praticamente ci parla. Perciò abbiamo appena proclamato la morte di quel principe. Ed ora celebriamo la Quaresima col principe Olorio, che sta presso i Sacri Altari. Poiché, proprio come San Giuseppe ha svolto per 40 giorni i doveri di sepoltura a suo padre Giacobbe, così ha svolto anche i doveri di suo padre Teodosio. Ha un altro terzo giorno, un altro trentesimo, un altro settimo, un altro quarantesimo. Quindi cosa si comprende? Che questo rito durava 40 giorni e già nel 330-380 probabilmente era già in uso, perché il figlio Onorio celebra per 40 giorni i riti funebri del padre. Ma non solo. Celebra come fece San Giuseppe, cioè il patriarca Giuseppe con il padre Giacobbe. Quindi questa tradizione risale in realtà già all'Antico Testamento. Quindi è una tradizione antichissima. E si comprende anche che c'era proprio dei giorni prestabiliti, il terzo, il settimo, il tredicesimo, cioè c'era dei giorni prestabiliti per assistere l'anima del defunto. E' anche interessante analizzare il termine esequie, perché sappiamo che dal termine etimologico spesso si risale anche a un significato molto più profondo della parola. Infatti esequie è una parola latina che è ex-sequie. E il termine esequie praticamente significa seguire. E questo ha un'assonanza con ciò che diceva Paolo sul Tibet, perché questo stato intermedio tibetano chiamavano bardo, cioè stato intermedio, e todol che vuol dire ascoltare. Quindi seguire e ascoltare sono praticamente la medesima cosa. Fa capire che c'è qualcuno che segue o ascolta, che è il defunto, e qualcuno che legge, cioè segue ciò che il suggeritore legge. E si trova lo stesso significato anche in ciò che diceva Marco nella prima conferenza sull'Egitto, perché gli egiziani hanno dato un'importanza, cioè dalla nascita praticamente curavano la morte, e hanno fatto tutto questo simbolismo, tutta questa cosa del mito, con la pesata del cuore. Questo cuore che non era il cuore fisico, ma rappresentava l'anima. E l'hanno rappresentata con un vaso, con le orecchie, che si chiama kanopo, che serve proprio per ascoltare. Quindi fa capire che questo seguire, questo ascoltare, non fa riferimento all'udito fisico, fa riferimento a un senso sottile dell'anima, che uno dovrebbe avere sviluppato per riuscire a seguire. Quindi si vede che cambiano le tradizioni, cambia il simbolismo, però poi alla fine tutte queste tradizioni ci hanno tramandato lo stesso insegnamento. E diventa anche curioso aprire una parentesi sul simbolismo numerico, perché abbiamo detto che lo stato intermedio per tutte le tradizioni dura 49 giorni, e al cinquantesimo viene fissato il destino dell'anima. Quindi il numero 50, in sostanza, cioè, riassume tutto il simbolismo dello stato intermedio. Il numero 50 corrisponde, per esempio, alla Pentecoste. Tra l'altro la Pentecoste, il termine Pentecoste vuol dire proprio cinquantesimo, perché la Pentecoste viene celebrata 50 giorni dopo la Pasqua e praticamente rappresenta la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli, quindi un atto di grazia. Non solo, il numero 50 ha attinezza con un altro simbolismo, che è quello del Giubileo. Il Giubileo è una festa ebraica antichissima, e il Giubileo veniva celebrato ogni 50 anni, anche nella regione cristiana, poi gli ultimi anni il Papa ha cambiato, era 25, però tradizionalmente sono 50 anni. E il Giubileo come funzionava? C'era praticamente questa... Ogni sette anni c'era l'anno sabbatico, cioè era il 7x7, che fa 49, guarda caso, come i giorni dello stato intermedio, e al termine di questi anni sabbatici, cioè dopo 49 anni, al cinquantesimo, c'era il Giubileo, che era la remissione dei peccati e perdono dei peccati. Quindi questo numero 50 ci fa capire che cioè è collegato al perdono, alla remissione dei peccati. Quindi probabilmente anche questa ritualistica che dura per tutto lo stato intermedio ha, diciamo, questo obiettivo, questo scopo. Ora, prima di passare la parola a Nino per la parte più importante, perché è questa luce che si ritrova tutte le tradizioni, e volevo fare un attimo un riassunto di questo stato intermedio. Quindi, abbiamo detto, cosa succede? Al momento della morte, qualsiasi persona, cioè indistintamente dal proprio credo, dalla propria posizione sociale, dal luogo che abita, Oriente, Occidente, da qualsiasi latitudine, sia a un incontro con questa chiara luce, abbagliante. Questa chiara luce riconoscerla è veramente di pochissimi, cioè individui che in vita hanno realizzato, cioè hanno condotto la vita spirituale e l'hanno realizzata. Quindi, riconoscano questa chiara luce perché come esperienza l'hanno già vissuta, se no non la possono riconoscere. Quindi, non sono soggetti a questo stato intermedio e non sono soggetti a quei regni della ruota dell'esistenza, ma escono fuori da questo circuito. Questo però è per pochi. Per il resto dell'umanità, per noi, invece, dobbiamo fare i conti con questo stato intermedio. Quindi, alla morte, c'è questa chiara luce, questo incontro, noi la riconosciamo, sonno riparatore, che dura 3-4 giorni, un sonno incredibile, profondo, cioè uno non è che si rende conto di niente, dopo questi 3-4 giorni non è che si sveglia l'interno facoltà della coscienza, ma è proprio uno stato prepuscolare, come dice Tommaso Poledetti, cioè dove le facoltà della coscienza sono quasi inesistenti. Quindi l'attenzione non ha l'atto volontario. Quindi vive uno stato come di sogno, però lì non c'è nessuno che ti sveglia, non c'è la sveglia e vai a lavoro la mattina e ti sveglia. Cioè sei in quello stato di sogno che non sai se ciò che vedi è reale, allucinatorio, la situazione non è ben definita, cioè un mondo di ombre, quindi passatemi in termine uno stato un po' terrificante per quest'anima. E quindi quest'anima è destinata a questi 49 giorni a fare questa vita fino al cinquantesimo dove non verrà fissato appunto in uno di questi luoghi che possano essere luogo di premio o di espiazione. E soggiornerà in questo luogo, in uno di questi regni, di questi mondi del circuito esistenziale, non si sa per quanto, per un periodo X, perché a noi non è andato sapere, fino a quando, grazie alla legge di causa-effetto, cioè l'uomo non rinascerà in un corpo fisico e quindi riprenderà il suo cammino evolutivo. Però questi 49 giorni sono importanti perché c'è questa ritualistica e Palamedessi, a differenza degli altri detesti, mette due rituali. Uno è per una persona spiritualmente avanzata, l'altro invece per 49 giorni per un individuo che non ha riconosciuto questa chiara luce. e Palamedessi ci parla esplicitamente che in questi 49 giorni avvengano altre manifestazioni della luce che non hanno, diciamo, questo colore della luce bianchissima, c'è un simbolismo dei colori, che però sono sempre manifestazioni della luce divina, quindi di grazia, dove questo soggetto, diciamo, disincarnato, quest'anima, può attraverso la preghiera, attraverso la compassione, fissarsi in uno di questi aspetti, cioè in uno di questi aspetti della mesicordia e quindi puntare sempre ad un aspetto di salvezza. Quindi questa luce sostanzialmente diventa un po' la parte più importante e questo si capisce perché praticamente tutte le tradizioni ci hanno parlato di questa luce, tutte indistintamente. infatti, a conferma di questo, vediamo, e li abbiamo riportati giusto per vederli proprio, nel libro egiziano si incontra la luce, lo stesso nel Bardotodol o libro tibetano, nel Corano, nello Zendavesta, sono nello Zohar e poi infine soprattutto nel libro cristiano dei morti. Epoche differenti, secoli tra di loro molto lontani, tutti parlano effettivamente della luce. È abbastanza particolare come idea. Se è vero che tutti ne parlano però, per esempio, per gli egiziani era qualcosa di simbolico in relazione a Ra e quindi rientrava in una concezione più ampia e relativa alla dottrina solare. per i tibetani invece la luce era un qualcosa. Qui si parla di autoliberazione, autocoscienza come frutto di un lavoro personale che l'uomo e la donna possono svolgere, possono compiere, però separati e avulsi da quello che è il contatto con il divino. Per il libro cristiano dei morti invece la luce non è più qualcosa, l'abbiamo visto e anche le altre serate se ne è parlato, fondamentalmente si parla del Cristo, questo personaggio che è assolutamente come il faro centrale di tutto ed è proprio con lui che possiamo entrare in relazione. Anche Giancarlo poco fa ce lo diceva, Tommaso Palamidesi nel testo parla di questo incontro ma usa un verbo molto particolare che è quello di riconoscere la luce ma se il defunto è in grado nell'aldilà appena arrivato nell'aldilà di riconoscere la luce come può fare se non l'ha conosciuta prima? E in effetti è proprio ora che siamo nel pieno possesso delle facoltà mentali che abbiamo la possibilità sempre grazie a un lavoro che possiamo svolgere però è ora che abbiamo la possibilità di fare questo incontro con la chiara luce altrimenti diventa praticamente impossibile o comunque avviene per qualche istante ma poi non riusciamo a fissarci in essa e quindi in questo senso ci sono tanti personaggi della cristianità che effettivamente sono riusciti a ottenere questo contatto con il divino o con la luce e ne parlano due esempi su tutti per esempio San Francesco d'Assisi e Santa Caterina dei Ricci questo contatto è possibile perché in realtà è proprio la divinità è il Cristo stesso che vuole che noi ci avviciniamo a lui e è praticamente tutto già disposto l'unico momento l'unica l'unico ingrediente che probabilmente manca è da parte nostra come di muoverci in questo senso un'immagine che ci può tornare utile in questo senso è quello della bussola la bussola se noi la sballottiamo in qualunque modo se ci divertiamo a ruotarla qualunque cosa gli combiniamo alla bussola lei punta sempre verso il nord un po' come la vita la quotidianità che può essere veramente difficile da gestire e da vivere però ugualmente con l'idea che possiamo tenere a mente della bussola quindi come di tenere il Cristo sempre presente dentro di noi come punto verso cui muoverci in un certo senso esattamente come per la bussola che indica il nord e quindi come si fa a conoscere questa luce perché noi siamo abbastanza esperti di quelli che sono i sensi fisici sono cinque riconosciamo tutti ma insieme a questi abbiamo i sensi spirituali questi sensi spirituali sono quelli che ci permettono di conoscere di avere coscienza di fare esperienza non solo del fisico ma anche di quelli che sono vi ricordate il corpo eterico astrale e mentale di spostare la coscienza anche verso questi corpi quindi anche verso questi piani e ancora oltre verso ciò che è spirituale e addirittura verso il divino quindi oltre cinque sensi fisici ci sono quelli spirituali ed è proprio ora appoggiandoci sul corpo fisico e su tutte le facoltà della mente che possiamo fare esperienza allenarci in qualche modo per lo sviluppo di questi sensi spirituali come si fa però cioè quali sono le vie che effettivamente è necessario per correre per fare questo percorso quindi per questo sviluppo dei sensi spirituali e per arrivare a un vero contatto con la luce abbiamo l'accessi mistica e la meditazione sul cuore questi possono essere termini che molti di noi sicuramente conoscono ma magari sono anche sconosciuti in realtà sono metodi utilizzati un po' da sempre cioè i profeti i primi apostoli i padri cristiani del deserto greci russi dell'asia minore tutti i più grandi personaggi hanno utilizzato e sono ricorsi alla scessi mistica e alla meditazione sul cuore per fare un po' di chiarezza la scessi mistica è il processo di trasmutazione interiore che porta proprio alla visione della luce ed è ed uno dei suoi aspetti è la cardiognosi che è quindi la conoscenza del cuore inteso come metodo per realizzare in breve la saldatura tra noi e il Cristo quindi ripeto c'è da realizzare questo contatto questa unione tra noi e lui quindi si tratta di una conquista potremmo dire anche di un ascesi cioè di un allenamento metodico costante che ci conduce ad avvicinarci a lui e in realtà siamo tutti invitati a farlo dato che tra le altre cose diventiamo ciò che pensiamo se concentriamo tutte le nostre forze tutte le nostre energie sul Cristo tutti i nostri corpi tutto il nostro composto anche ovviamente la parte spirituale ne risentirà ovviamente in modo esemplare e ovviamente anche la parte immortale se ricorriamo a questi metodi alla meditazione sul cuore ovviamente tutto ne ha una si parla di trasmutazione cioè di un cambiamento praticamente totale quindi c'è da denudare la nostra coscienza dalle immagini dai concetti che sono quelli creaturali che non siano proprio lui il Cristo citando San Gregorio Palamas la vitale presenza del Cristo nel nostro cuore c'è ma è come il cosciente quindi si tratta di renderla cosciente appunto e cioè è possibile solo con la preghiera che il Cristo stesso insegna tutto questo è spiegato nel quaderno numero 11 tra l'altro che è l'ascesi mistica e la meditazione sul cuore che insieme al libro Cristiano dei Morti in questo senso dà dei grandi grandi insegnamenti ci dà veramente una mano per ottenere questo contatto in conclusione abbiamo deciso di citare il prologo di Giovanni dove leggiamo in lui era la vita e la vita era la luce degli uomini quindi la luce vera è il figlio che viene a offrire l'alleanza del padre per una rigenerazione totale della coscienza tenebrosa questa luce illumina l'uomo e la donna e li libera dalle tenebre a l'uomo Grazie per la visione!